Oddio Ma dovete fare proprio il saluto Ciao Ciao Vuoi se il video andrà su YouTube? No Ti voglio bene Anch'io ti voglio bene Tu fus Una volta Però sei troppo magra No avevo pure il cuscino Tu chi saresti? Autore No Maria De Filippi dillo Maria De Filippi E tu? Platinetto Ui Platinetto quando sei sexa Che bello Fate un ciao collettivo Ciao